hai avuto una giornata frenetica divisa tra lavoro e figli non sai più come gestire i tuoi capelli il consiglio di oggi è quello di raccoglierti i due capelli con questo fantastico fianchino porta i capelli indietro selezionando due ciocche laterali in questo modo e con il fianchino dal basso verso l'alto incastri le due ciocche per avere un'acconciatura molto più elegante ma soprattutto gestibile per tutto l'arco della giornata fino non far scivolare